Ricorderemo sempre così, è lo striscione che è stato sistemato davanti alle bare di Nuccia Vullo e della figlia Ludovica Caracappa nel corso dei funerali celebrati nella chiesa evangelica Terra Promessa a Sette Farine, quartiere di Gela. Lunedì sera sono state travolte e uccise da una Fiat Panda mentre la donna con la bambina in braccio attraversava la strada in via Venezia all'uscita della pizzeria dove avevano cenato con parenti ed amici. Il conducente dell'auto, un caberiere di 25 anni incensurato che si è costituito ai carabinieri dopo qualche ora dal sinistro e agli arresti domiciliari per duplice omicidio stradale inconsolabile. Il dolore dei familiari in particolare del marito Luigi, operaio, e dell'altra figlia Giorgia, 15 anni, studentessa, stretti attorno alle due bare. Un lungo applauso ha colto le bare di mamma e figlia quando hanno fatto ingresso nella chiesa gremita. Sulle due bare sono stati poggiati rose bianche e rosa, accanto a quella di Ludovica uno zainetto di Frozen con il quale avrebbe dovuto recarsi a scuola per il primo anno delle elementari. La città in lutto era rappresentata ai funerali dal sindaco Domenico Messinese. Alla fine della cerimonia sono stati fatti volare palloncini bianchi. Il pastore Giacomo Loggia ha detto questa città balza agli onori della cronaca, sempre per fatti di cronaca terribili. Dio benedica questa città. Ha ceduto improvvisamente il tetto di un appartamento al secondo piano di un vecchio edificio che si trova nel vicolo Cappellino a Sciacca. Feriti tre componenti di una famiglia, tra cui un bambino di otto mesi. La zona ora è stata transennata, mentre i feriti sono stati trasferiti per precauzione all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Fortunatamente le loro condizioni non sembrano destare preoccupazioni. Le cause del crollo restano incerte, mentre i vigili del fuoco e funzionali dell'ufficio tecnico comunale valutano le condizioni dell'edificio. Controlli e perquisizioni dei carabinieri nella zona del villaggio Santa Rosalia a Palermo, in via Vincenzo Barone, dove vive Calogero Tommaso Lopresti, arrestato sabato scorso per l'omicidio di un pregiudicato ucciso al mercato del capo di Palermo, i militari hanno concentrato le ricerche del complice del killer. Pare che proprio Lopresti, in quella zona, sia stato visto più volte con un familiare che potrebbe essere il ricercato a bordo della Smart usata per la fuga dopo il delitto. I due, insieme ad un gruppo di altri giovani, organizzavano furti di auto nella zona dell'Università di Corso Calatafimi a Palermo.